Sono orgogliosa di essere qui per l'ennesima volta, sono oramai tanti anni che partecipo al Media Show e sono stata così fortunata che il primo anno uno dei miei studenti ha ricevuto la premiazione, quindi siamo partiti alla grande. In questi anni ho imparato ad apprezzare la professionalità di coloro che organizzano questa manifestazione, che è veramente fantastica, riescono a stupirmi ogni anno per le capacità organizzative e per la qualità dei convegni. Un'altra cosa meravigliosa di questa opportunità che ci viene data come docenti è quella di poter scambiare informazioni, opinioni e anche un po' d'allegria con dei colleghi.